Cosa dire, io posso solo ringraziare, vi ringrazio tutti quanti per essere qua, per me è una grande gioia interiore, una forte emozione, per cui spero che anche voi possiate trarre magari qualche emozione dai quadri che andrete a vedere. Si vedono dei pianeti che apparentemente, come dicevano anche prima le persone che hanno preceduto, sembrano delle mette irraggiungibili, quindi il pianeta a volte uno lo potrebbe anche vedere come uno stato angosciante, qualcosa di una meta che non può raggiungere. Mentre per quanto mi riguarda, io penso che, forse sarà anche, ma sicuramente, perché per la mia ricerca interiore, il pianeta è molto vicino, quindi è dentro di noi, basta solo aprirsi all'ascolto e cercare dentro di noi queste emozioni, queste condizioni di interiorità, quindi fondamentalmente andare alla ricerca di quel senso sottile che vive dentro di noi, chiamato come sesto senso, quindi la sensibilità interiore, e quindi libera poi questa sensibilità un'emozione, che io traduco col colore. Ringrazio tutti quanti ancora e grazie a Dio che siamo qua. State bene, prego, Massimo vi conduce su a vedere le proprie opere. Grazie Massimo, un bocca al lupo. Prego.